Questi film si fanno espressamente per il mercato americano, facendoli per il mercato americano bisogna girarli con quella mentalità leggermente bambinesca, non dico per gli americani, li rispetto molto, però hanno una mentalità bambinesca, loro vogliono quei film lì, vogliono il film del terrore, il castello, forse sarà perché saranno per i bambini, non lo so, loro vogliono questi film, se propone una cosa intelligente è difficile che accetti.